Ciao ragazzi, benvenuti in questo pre-partita un po' veloce in corsa di Bologna Inter, vi ricordo di lasciare like ai video, di condividerli, di iscrivervi al canale soprattutto e attivare le notifiche. Poi per chi volesse addirittura apprezzare, per chi apprezza quello che faccia e vuole addirittura sostenerlo, può tranquillamente anche fare l'abbonamento. Questo video è un po' diverso dai soliti pre-partita tattici dove vado a spiegare come gioca l'avversario, dove bisogna che facciamo noi certe cose eccetera eccetera, perché purtroppo la situazione è un po' diversa dal solito. Siamo un po' in crisi Inter, bisogna dare delle risposte nette, in queste ultime due partite bisogna fare sei punti obbligatori perché altrimenti le cose si mettono male e probabilmente la dirigenza potrebbe anche operare qualche cambio in corsa, magari anche di panchina, non lo so. Perché chiaramente poi il fatto che ci sia un mese, un mese e mezzo su cui lavorare, anche se con mezza rosa, ma insomma di spazio eccetera, si presta anche a dei cambiamenti se ce n'è bisogno. Quindi bisogna stare molto attenti, però attenzione, innanzitutto dico una cosa fondamentale, che non è mai da auspicare perché c'è qualcuno che pensa di essere interista chiedendo sempre alla testa di qualcuno. Ma in realtà dal punto di vista progettuale, sportivo eccetera, e anche societario, non è mai da auspicare con grande felicità e con grande così spinta il cambio di allenatore, il cambio di progetto eccetera eccetera. Deve essere una cosa molto ben ponderata e ci devono essere veramente gli estremi per farlo. È sempre un fallimento quando occorre licenziare un allenatore, dargli la buona uscita, cambiare in corsa eccetera. Quindi badate bene a quello che chiedete. So che in questo canale non c'è molto bisogno di fare questi discorsi, però insomma quando c'è momento di crisi spesso si va un po' di pancia. Poi è chiaro che se i risultati sono molto negativi occorre dare una smossa, questo è ovvio, però attenzione a chiedere certe scosse con grande facilità. Detto questo bisogna dare una scossa, dicevo, e però per dare la scossa bisogna anche individuare quelli che sono i problemi reali e non inventarsene di fasulli. E questo è un altro rischio dei momenti di crisi. L'ambiente mediatico generale che non è le tv, perché è sempre facile dire è le tv. Sono le tv, sono i giornali, sono le radio, sono le persone sui social, sono gli influencer, sono i canali youtube, sono i canali twitch, gli streamer eccetera. Tutto l'ambiente mediatico è un po' portato nei momenti di crisi, soprattutto dell'Inter, a sbraitare e tirare fuori i temi più disparati cercando di trovare soluzioni, le più disparate soluzioni come se ci fossero problemi in ogni dove. E il motivo per cui ci va un po' male è risiede in 5798,3 la potenza di 7.000 cose. Ecco, non è così magari, no? Bisogna partire dalle cose che non funzionano e bisogna capirle. Io ovviamente mi baso sulle analisi che ho fatto dell'ultima partita, no? Per darvi un'idea. Cioè, è un problema di modulo? Non credo, non penso proprio che sia un problema di modulo. Invece sta cominciando a venire fuori perché? Perché è una narrativa che funziona. Cioè, piace a molta gente quando c'è un problema che non si fa gollo, si subisce qualche gollo in più, eccetera. Il problema è il modulo. Urge il cambio modulo. Urge l'unica punta. Urge il tridente. Urge il trequartista. Bisogna fare la difesa a quattro. No, bisogna fare la difesa a tre. E tutte queste robette qua, no? Non è. In questo caso, secondo me, il problema dell'Inter. Io, a volte, in passato, ho proposto anche di moduli diversi, in alcune situazioni, no? Vi ricordate con Spalletti, ad esempio, un vero e proprio trequartista, spesso ho proposto di passare più un 4-3-3, con due mezzali, con il mediano, eccetera, eccetera. Quindi non è che sono contro il cambiare i moduli, o non penso che sia mai la soluzione. Penso che in questo caso non sia il problema dell'Inter. Perché prima di arrivare a un cambio modulo ci sono altre cose che, secondo me, non funzionano. Tra l'altro, una delle poche cose, forse, che funziona di questa Inter, e che dà un po' di continuità a questa Inter, è proprio il modulo, è proprio il gioco che ha quest'Inter. Perché, se badiamo bene le cose che abbiamo fatto bene, quando abbiamo fatto bene, risultati e tutto, non è che ci fossero altri giocatori, ci fossero altri avversari o altre cose, no? Abbiamo fatto bene perché si creava gioco e si crea ancora tuttora gioco, magari si sbagliano le occasioni, eccetera, però, insomma, si crea, no? E anche la solidità, che adesso sembra mancare, non è che manca perché abbiamo cambiato modulo e questo modulo non funziona, abbiamo cambiato interpreti rispetto all'anno scorso e questi non funzionano, più o meno, cioè, non è così. Quindi, non è il modulo. Ci sono altre cose che magari sono un po' cambiate. Innanzitutto, io ravviso un problema di mentalità in questa Inter. Questa Inter è un Inter fragile, che, come l'anno scorso, ma anche quest'anno, è un po' in balia a volte degli eventi. Quando le cose vanno bene, ok, quando le cose vanno un po' male, soffre molto la pressione dell'ambiente in generale, la pressione mediatica e cova delle insicurezze, delle disautostime clamorose e quindi perde la lucidità, perde consapevolezza, autostima e quindi sbaglia sul campo, si commettono errori scemi, non si è tranquilli nel giocare la palla, si fanno errori in difesa, in marcatura, si fanno errori davanti, no? Questo è un problema enorme. Però, come la cultura non si cambia per decreto legge, la stessa cosa vale per la mentalità. La mentalità non si cambia perché cambi il modulo, ok? O non si cambia perché schiocchi le dita, ok? Si cambia in parecchio tempo o lavorando psicologicamente sul gruppo e via o si cambia attraverso i risultati che vengono, eccetera, eccetera e quindi bisogna fare perfetto però tutto il resto. Se la mentalità cambia con i risultati ma quella è nel frattempo vuol dire che tutto il resto deve essere perfetto, ti porti comunque ai risultati e quelli che ti aiutano a consolidare una mentalità oppure si cambia attraverso più sessioni di mercato facendo incetta di un certo tipo di giocatori e dandone via altri. Ma è una cosa lunga e a volte dispendiosa. Quindi, capite, bisogna capire dove ha senso intervenire, no? Cioè, quali sono i problemi reali dell'Inter e dove è che si può realmente intervenire o dove in realtà non si può, nel senso che non conviene perché non è risolutivo il punto. Quello è il metodo, secondo me, con cui si affrontano i problemi. Insomma, stiamo cercando di ragionare un po' insieme. Poi verrò un attimo alla partita, però insomma è residuale il discorso. Poi, altra cosa. A parte la mentalità, quest'Inter, secondo me, rispetto all'anno scorso, su cos'è che è cambiata e che quindi questo piccolo cambio perché sono più cose insieme, non è una. No, è un problema semplice. Ah, quello è il punto, cambia il modulo. E ci sono più cose. Cos'è un'altra cosa che magari è cambiata rispetto all'anno scorso e che fa la differenza quest'anno, che ti complica un po' la vita quest'anno, no? In alcune situazioni. Beh, per esempio, beh, non è molto cambiata sul campo, però quelle due cosette l'anno prima e due cosette ancora, quest'anno qui, di cambi, ci sono stati che possono un po' contribuire. Per esempio, Persic era un giocatore di grande mentalità, di grande esperienza, e che dava anche grande quantità, perché reggeva tutte le partite 90 minuti sempre, ti dava costanza di rendimento costante, solidità difensiva, quantità corsa, e qualità offensiva nel puntare l'uomo, nel creare delle occasioni, no? Cosa che non riuscivi a fare dall'altra parte, e non riesci a fare dall'altra parte tuttora. Quindi, l'anno scorso, per esempio, Dumfries, perché sembrava meno o peggio? Semplicemente perché l'anno scorso bastava un giocatore discreto, discreto, come Dumfries, con dei limiti, perché tanto dall'altra parte c'era Persic. Nel momento in cui però non c'è più Persic, e hai Di Marco, che è un signor giocatore, ma diverso, e non completo come Persic, ecco, poi c'è qualcuno che pensa che sia il nuovo, cos'è che ho sentito, Jordi Alba, Marcello, qualcuno che... opinionisti forti, cioè, famosi, eh, tanto avete capito, Di Marco, il nuovo Marcello, queste cose qua. Di Marco, il nuovo... vabbè. Comunque, Di Marco è un buon giocatore tecnico, lo sapete, sempre difeso, però è un giocatore limitato, e non è Persic, per una serie di motivi. E quindi l'Inter ha perso qualcosina. E allora quest'anno non basta più sempre Dumfries, dall'altra parte, perché sei un giocatore buono a sinistra, ma buono, soprattutto in alcune cose, ma limitato in altre. E a destra hai sempre il giocatore discreto, modesto, dell'anno scorso, e ti sei depotenziato. Cioè, delle cose che sono fondamentali per il tuo ruolo, per il suo modulo, per il tuo gioco. Non modulo, per il tuo gioco. Perché, anche se cambi modulo, cioè, l'Inter non ha giocatori che in mezzo, e fanno la differenza, driblano tutti, fanno, eh. Quindi è costretta comunque a giocare in maniera corale, quest'Inter qua. Cioè, mettetevela via. E se la mettano via anche qualche giornalistelli che fanno i loro articoli. Cioè, questa Inter non ha giocatori che prendono e risolvono da soli le partite. Quindi è costretta ad avere un modulo, ad avere un gioco, ad avere un sistema corale di manovra. Cioè, poco da fare. Se no bisogna intervenire sul mercato, ma appunto lo fa in due, tre sessioni. Perché, oppure, oppure devi avere grande capacità a fare scouting, e imbroccare dei colpi clamorosi a pochissimo. Però, si può fare, eh. Anche quella è un'abilità. Però, insomma, c'è un coziente di difficoltà. Comunque, torniamo a noi. Quindi, quest'anno magari non basta più Dunfries. E il fatto di avere Dunfries a destra, di nuovo, significa che l'Inter è limitato in alcune circostanze, diventa sterile. Seppur crea molto, non crea magari con la stessa qualità, con la stessa pericolosità dell'anno scorso in alcuni frangenti. e quindi, non creando, eh, cosa succede? Che, che semplicemente forza delle, devi forzare delle giocate. Che sei un po' più nervoso, che non riesci a fare il gol, e siccome sei fragile anche mentalmente, la cosa fa combo, no? Si autoalimenta, sei fragile, ma comunque hai gioco, ma comunque, però sei un po' meno pericoloso, sei meno efficiente, non salti l'uomo, non crei la giocata, crei, ma non abbastanza, e non segni, perché i gol sono sbagliati tanti anche l'anno scorso, quindi è un inter che comunque è un po' spreconcina davanti, e, cioè, Dzeko fa tante altre cose, ma non è un bomberissimo, clamoroso, no? Dare di rigore, puro, sbaglia qualche gol. Lautaro, sì, quando in giornata buona è bene, ma, due volte su tre non è in giornata buona, e è o grigio, oppure sbaglia di tutto, quindi è un inter che per fare tanti gol deve creare l'ira di Dio, perché non ha dei bomberissimi davanti. Quindi questo è il primo punto, l'Inter crea tanto, ma sbaglia comunque tanto, ma se quest'anno è ancora più fragile mentalmente, crea comunque, ma meno, e quindi sbaglia tanto quanto, ma non finalizza, è ancora più frustrata, la fragilità si fa ancora più sentire, e poi cominci anche a sbagliare di più, perché devi forzare le giocate, perdi il pallone, gli altri ripartono, ti perforano, per attaccare, devi portare ancora più uomini, perché siccome non hai chi fa la differenza sull'uno contro uno, per superare gli avversari devi portare un uomo in più davanti, due in più davanti, arrivare con i difensori al limite dell'area, cioè ti esponi sempre di più, no? Alle ripartenze, proprio perché non hai quella caratteristica offensiva. Per esempio, guardate, anche, vedete, il Napoli stesso, ci sta, cioè, in picco, in molto piccolo, eppur, e comunque sta comunque vincendo, ci ha fatto un po' vedere nelle ultime due partite senza Kvara-Skelia, no? Pur essendo una squadra che crea molto, che è in salute, che sta molto bene, che è lanciatissima, e che ha comunque vinto, ha fatto un po' più fatica del solito, rispetto, cioè, con l'Atalanta e con l'Empoli, poi, ha spulso il giocatore dell'Empoli, poi hanno vinto 11 contro 10, ok, però, insomma, hanno fatto un po' più fatica queste due partite senza Kvara, perché? Perché, eppure hanno, Osimene, hanno altri giocatori importanti, cioè, non è, non sta facendo la fatica che sta facendo l'Inter, cioè, capite il concetto, non sto paragonando l'Inter al Napoli in questo momento, però, quando una squadra è importata su, su, su un giropalla, su un possesso, ma gli viene a mancare chi crea superiorità numerica o quelle caratteristiche che danno un senso al possesso, fa più fatica, fa più fatica, e, nel caso del Napoli, sta molto bene, quindi comunque non si perde d'animo e sta lì, poi magari gli altri stanno con uno in meno e riescono a portarla a casa comunque. Nel caso dell'Inter sei in difficoltà, perché crolli, fai l'errore, eccetera, eccetera. Questo è, secondo me, il punto attuale dell'Inter, quindi occorre trovare delle soluzioni all'interno della situazione attuale, senza inventarsi cose strane, e buttare via anche le cose che funzionano, ma capendo cosa non funziona. Ed ecco che arriviamo un po' alla partita in chiusura, molto velocemente, e, vedete che, alla fine, non ho cambiato chissà cosa, perché quali sono, non è che ci sono grandissime alternative, allora, stravolgere completamente la squadra, cambiare, stravolgere completamente il modulo, adesso, senza aver neanche avuto la possibilità di provare nuovi moduli in pochissimi giorni, che ci sono due partite distanti due giorni uno dall'altra, sarebbe rischioso, cioè, non è molto, non è molto ragionevole stravolgere completamente la squadra, giocare con il 4-3-1-2, che è il modulo completamente antitetico, opposto al 3-5-2, sconvolgendo completamente tutto, se ci ricordiamo qualche, forse un mesetto fa, un mesetto e mezzo fa, Inzaghi, in una partita, per recuperare una partita, a un certo punto, mise, no, forse, mi ricordo se era contro la Roma, o contro, o forse al derby, mi ricordo, vabbè, comunque, a un certo punto, negli ultimi 30 minuti, mise una specie di 4-3-1-2, un modulo nuovo, con la difesa a 4, eccetera, e infatti l'Inter, in campo, non si riconosceva più, era un disastro, non c'era più coordinazione, perché questa Inter, che non è fatta di singoli, che stravolgono, ha la sua forza, proprio nell'automatismo, nel trovarsi in campo, nell'ordine, nella costruzione, nel scambiarsi le posizioni, ma in maniera codificata, non casuale, ma tipo Juventus, che non ha un gioco, non ha una coralità, non ha uno schema, quelli vanno veramente, di forza singola, di capacità individuali, e di voglia, e tutto, e giocano un po' in maniera semicasuale, in base alla loro esperienza individuale, di come si vedono in campo, ok? Cioè, questo è, noi siamo diversi, ok? E bisogna fare così, quindi, rimaniamo col 3-5-2, cerchiamo di mettere la difesa, più in forma possibile, attualmente, Skrini, Aracerbi, Bastoni, mi sembra la difesa migliore, con Onana in porta, Bastoni, sicuramente fondamentale, anche dal basso, con il suo piede, poi al centrocampo, quelli sono, Brozovic si può rientrare, ma non è ancora in condizione, non ha ancora i minuti, ed è un rischio, quindi, ovviamente, per adesso, magari, la prossima partita contro l'Atalanta sarà diversa, però, attualmente, bisogna riandare ancora, con Ciannoglio, Mkhitarya, Barella, non è che ci sono mille altre soluzioni, cioè, non so cosa si voglia inventare, questi tre sono i migliori di centrocampo, chiaro, che sono i migliori di centrocampo, anche se, per esempio, Barella, l'ultima partita, ha fatto male, non mi è piaciuto, ma allora va richiamato, dal punto di vista mentale, comportamentale, e va cazziato, e gli va chiesto di dare quello che può dare, perché Barella, comunque un buon giocatore, può dare di più di quello che ha fatto l'ultima partita, no? Cioè, va avvituato bene l'ultimo mesetto. Poi, sui esterni, Di Marco, ballottaggio Di Marco, Gosens, sicuramente, e probabilmente giocheranno entrambi, Di Marco è quello che attualmente dà un po' più garanzie, dà più piede, dà più qualità, c'è poco da fare, mentre Gosens è un po' più indietro, però, chiaramente Di Marco sappiamo che non dura 90 minuti, quindi comunque, poi ci sarà la staffetta, e spero che Gosens, comunque, entri in campo. Dall'altra parte, ecco, se vogliamo cambiare qualcosa, o dare un impulso nuovo, insomma, ponderato, perché è uno, non sono 50, dove stravolgi tutto, è proprio l'esterno di destra. Dunfrid, l'ultima partita, ha fatto molto male, non è la prima volta che fa male quest'anno, ma non perché, quest'anno è diverso dall'anno scorso, ma semplicemente perché, quest'anno, avendo meno quello a sinistra, punge, sei più costretto a fraseggiare, quindi arrivi molto di più, anche con la palla, sulla destra. L'anno scorso ci arrivai molto meno, quindi li vedevi meno i limiti di Dunfrid, ed era un po' più valorizzato, motivo per cui, io quest'estate, qualche volta, ve l'ho accennato, soprattutto nel gruppo sub, anzi, questo motivo anche per fare l'abbonamento, ragazzi, di entrare nel gruppo sub, perché durante poi le sessioni di calcio mercato, parliamo un sacco, ma vabbè, durante questo calcio mercato, lo dicevo, Dunfrid, se si parla veramente di 35-40 milioni di offerte, bim bum ba, ma non c'è neanche da pensarci, è un giocatore che non può valere di più di quella cifra, perché ha evidenti i limiti tecnici, e quello è il picco, l'abbiamo valorizzato tantissimo in questa stagione passata, con Perjic a sinistra, e ha trovato la sua dimensione, e si è valorizzato al massimo, ma in realtà, Dunfrid rimane un giocatore da 20-25 milioni, poi l'abbiamo ipervalorizzato, e ok, quest'anno infatti, sta rendendo da giocatore che vale 20, non sta rendendo da 40, perché vede un po' di più i suoi limiti, oltre che i suoi pregi, quindi, se vogliamo cambiare qualcosa, forse a destra, ora è il momento di provarlo un po' di più, Bellanova, perché è un giocatore giovane, su cui è un po' puntato, e gli va data qualche chance, anche perché quelle volte che ha messo piede, in campo, ha fatto vedere di avere voglia, di avere gamba, di avere un po' di brillantezza, di darti qualcosa leggermente diverso, rispetto a quello che ti dà Dunfrid, quindi è un'alternativa da testare, è una cosa che va provata, che va misurata, che va testata, perché può darti delle risposte, e lo so che sembra stupido dire, ah beh, basta Bellanova e cambia l'Inter, anche, anche, perché bastava Perjic, invece di Marco, e l'Inter era diversa, cioè, non è così strano, ragazzi, in un mondo, della Serie A, che è di altissima, gamma, di, 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 di livello, comunque, cioè, stiamo parlando di calcio, super professionistico, della massima Serie Italiana, eccetera, i dettagli fanno la differenza, lo diciamo sempre, e non perché Bellanova sia più forte di Dunfrid, ma perché ha delle caratteristiche, che magari, non sempre, ma soprattutto in alcune partite, o in alcuni momenti, potrebbero dare un senso, sì, al possesso dell'Inter, potrebbero dare un senso, al gioco dell'Inter, potrebbero dare delle soluzioni diverse, che adesso non abbiamo, diciamo, che, ci danno qualcosa in più, può essere, magari no, perché magari, giovane, è un po' incostante, però bisogna provarlo, nel momento in cui non hai queste soluzioni, e non puoi per forza, non puoi cambiare chissà quanto, perché hai un po' la coperta corta, non è che sai, che non è che mille altri giocatori, da mettere, il modulo, abbiamo capito che, non è proprio quello, forse il problema, poi sì, magari potrebbe cambiare anche il coso in positivo, se cambi modulo, ma è più una cosa psicologica, perché c'è la novità, dai, abbiamo novità, quindi è un, resetti un po' i problemi psicologici, magari ti convinci, è effetto, il famoso effetto placebo, no? Cioè, se io penso che quest'acqua qui non sia acqua, penso che sia in realtà un'acqua spirituale, magica, che è che sono profondamente convinto, se la bevo, eppure è sempre acqua, è, psicologicamente, io sono convinto che sia una cosa miracolosa, e quindi, la bevo e, però, e sono più positivo, capito? Non è che cambia il mio stato fisico, però magari sono più positivo, perché sono convinto di una cagata, però, sono super mega convinto, magari reagisco anche fisicamente meglio, perché sono più carico, sono più positivo, sono meno abbattuto, meno stressato, meno triste, perché mi sono convinto, anche se è una cosa, è una cazzata, però è un effetto placebo, non è che quest'acqua è diversa, è sempre acqua, quindi, il punto è, potrebbe anche funzionare il cambio modulo, ma sarebbe un effetto placebo, a mio avviso, ok? Se vogliamo cambiare qualcosa nella sostanza, Bellanova è una cosa da fare, da provare, bisogna farlo prima, provarlo prima, tra l'altro, anche perché se scopri che Bellanova funziona, ed è quantomeno ti dà il valore Doomfreeze, vuol dire che Doomfreeze è un giocatore che non è più insostituibile, e vuol dire che puoi anche cederlo di fronte a certe offerte, e con quei soldi puoi potenziarti, prendere giocatori alternativi anche per completare la rosa, o migliorarla, o potenziarla, o sistemarla, cioè è sempre, è una situazione win-win, è sempre utile testare bene i giocatori della rosa, se hanno, se ti danno un briciolo di potenzialità, un briciolo di idea, cioè è sempre conveniente, sempre misurarli, testarli, metterli alla prova, le pedine, i giocatori che hai, sempre, dal punto di vista tattico, progettuale, finanziario, in tutti i sensi, in tutti i sensi, quindi Bellanova è uno che farei giocare, Lautaro, Dzeko, anche lì, sono forzati, cioè io per esempio, oggi avrei messo Correa invece Lautaro, ma non perché penso che Lautaro faccia male oggi, perché magari Lautaro farà bene oggi, anzi contro le piccole, si esalta, ma, cioè lo devo mettere in ogni caso, perché Correa, cioè non, attualmente, è venuta fuori anche la notizia, che sta un po', non è al 100%, dopo la botta che ha preso, forse col Barcellona, quando è stato, è al 70%, 75%, non è al 100% della forma, e quindi, e poi non ha magari l'autonomia, quindi non so se vale la pena metterlo dall'inizio, ecco, solo per quello, perché altrimenti metterai Correa, perché è un'altra cosa da, insomma, da valutare anche quella, cioè Lautaro è così imprescindibile sempre, anche se sbaglia l'ira di Dio al posto fisso, uguale per Dumfries, uguale per altri, se c'è un sostituto, mettilo, Correa la scorsa partita è entrato, è stato il migliore dei due attaccanti, anche se ha giocato 10 minuti, vuol dire che è un gran giocatore, no, ma magari in questo momento ti dà delle cose che magari ti servono, dà quel pizzico di fantasia, di imprevedibilità, di cose diverse dal solito, un po' di gamba, eccetera, che potrebbe esserti utile, poi un'altra alternativa è cambiare il modo di gioco, tenendo il stesso modulo, che penso che sarà quello che farà Inzaghi, vedrete, Inzaghi, io temo, spero di no, in parte, però vabbè, spero, anzi, scusate, temo, volevo dire, temo che terrà un 3-5-2, ma siccome si prendono troppi gol e tutto, si pensa, oddio, l'Inter deve giocare di più difensiva, quindi, di fatto, si tiene il 3-5-2, ma si interpreterà come un 5-3-2, quindi si sta bassi, belli compatti, e si riparte, alla mo' di Conte, ma manca Kimi, manca Eriksen, manca Perisic, ovviamente, manca Lukaku, attualmente, cioè, quindi, non penso che sia la cosa giusta, la mossa giusta, anche perché l'Inter costruisce bene, costruisce meglio adesso, che non con Conte, voglio dire, poi, quando è in difficoltà di mentalità, eccetera, eccetera, chiaro, facciamo gli errori, però, insomma, è una squadra che funziona con l'aspetto lì, perché andare a eliminare quell'aspetto, che è un aspetto su cui invece continuare, cioè, del gioco, il fraseggio, la costruzione, il dominio della palla, eccetera, eccetera, non penso sia quella la mossa giusta, ma io penso che farà così, un po' impaurito, un po', oddio, devo salvare la panchina, qua bisogna per forza vincere, faremo, facciamo un'Inter brutta, un'Inter difensiva, che sta bassa, e che riparte, magari facendo la vittoria di corto muso, 1-0, ma allora ha maggior ragione Bellanova, ha maggior ragione ancora di più Correa in campo, è l'unico modo, perché altrimenti già sei brutto, se poi sei anche inefficace, sei vomitevole, non sei più brutto e basta, perché sei brutto ma vinci, brutto efficace, vabbè, ma sei brutto e anche inefficace diventi vomitevole, attenzione, e se sei vomitevole, sei fuori, quindi, ecco, questo è il punto, io cambierei, ma poco, ma quel poco deve essere sensato, perché se cambi troppo e tutto, va a finire che cambi, sia le cose negative, e va bene, ma anche le cose positive, e alla fine pari patta, e non hai svoltato, perché hai tolto un problema, e ne hai aggiunto degli altri, bisogna capire cosa funziona, capire quello che non funziona, fare delle piccole modifiche ad hoc, in base all'avversario, in base a quello che puoi fare, eccetera, eccetera, e perfezionare la lettura delle partite in corso, per esempio, utilizzare meglio i cambi, cazziare meglio i giocatori, quando ce n'è bisogno, rimproverarli, o guidarli di più, da punto di vista proprio psicologico, perché questa è una cosa che manca, poi ci sono mille cose da fare, c'è poi anche extra panchina, voglio dire il team manager, Ferri, non so se stia dando, quel giusto apporto, di cui c'è bisogno, perché una squadra, che ha così grande difficoltà mentale, a proposito, è andato via Perisic, ma è andato via anche Ranocchia, è andato via anche Collarov, giocatori che non, che magari non giocavano, ma che facevano squagliatoio, come adesso Geko, insomma, ne sono molti meno adesso, quindi, queste cose magari aiutano, e vabbè, in ogni caso, appunto, il team manager, bisogna anche lì, è un team manager che, che sta dando dei frutti, o no, perché se no, si può rimuovere, prendere un altro, se voglio dire, se questa cosa, non funziona, insomma, ci sono varie cose, su cui lavorare, poi attenzione, che anche lì, le colpe, non sono tutte attribuite, da attribuire per forza, allo staff e a Enzaghi, ma la dirigenza, Marotta in primis, secondo me, ci ha messo del suo, in questo anno, perché i soldi sono pochi, ma dipende anche come li spendi, se fai acquisti non funzionali, tipo quello di Gosens, mi dispiace, è un errore, se pensi di mettere sul mercato, Skriniar a tutti i costi, perché dici che, i difensori si possono rampiazzare, tranquillamente, è facile trovarlo in giro, eccetera, eccetera, e poi, e commetti, dato alla mano, cioè fattualmente, un errore di valutazione così grande, scompagini il capitano, adesso devi rinnovarlo, a cifre ben più alte, rispetto a quelle che avresti potuto rinnovarlo, magari cinque mesi fa, e bim bum ba, è un errore anche grave, della dirigenza, in più, in più sensi, di strategia, finanziario, di spogliatoio, di solità della squadra, anche tattico, perché magari invece, potevi andare a vendere, o fare delle altre cose, da altre parti, però, non voglio andare troppo oltre, in profondità, però capito, ecco, sul banco degli imputati, piacerebbe che ci fossero un po', varie situazioni, non solo una situazione, che è quella di Inzaghi, che ha delle colpe, che ha delle responsabilità, che deve fare meglio, deve avere più coraggio, deve avere le palle, di fare alcune cose, e deve vedere, alcune cose che non funzionano, perché la scorsa partita, il fatto che non mi cambi, Doomfries, quando l'Inter, chiaramente sulla destra, arriva, fraseggia anche al dominio, e poi non completa nulla, è un problema grave, il fatto che, e quindi, banco, sono imputati tutti, Inzaghi, ma anche il suo staff, che magari non lo consiglia, a riguardo, che non individua, quelle cose lì, penso, non lo so, le cose sono ben complesse, video molto lungo, caspita, lo so ragazzi, però, però, questo secondo me occorre, di questo occorre parlare, in una giornata come oggi, e sono sicuro, che verrà visto, anche molto poco, questo video, perché purtroppo viene, 30 minuti, e prima della partita, quindi figuriamoci, ed è un gran peccato, ultimamente infatti, i video non sono vistissimi, ma l'algoritmo purtroppo, penalizza, secondo me un po' il canale, dato quello che è successo, un mesetto fa, e quindi così è, sono un po', infatti un po' tristino di questo, perché secondo me, sto facendo dei video, che io reputo importanti, però così è, intanto, quelli che hanno visto il video, fino a qui, li ringrazio, con tutto me stesso, e spero che siano, comunque soddisfatti, insomma, dei discorsi fatti, dell'approccio, perché secondo me, è un momento chiave, in cui, metti i puntini sulle I, e spero di averlo fatto abbastanza, ci vediamo dopo, comunque dopo la partita, assolutamente, ciao a tutti, e forza Inter!